I quarantenni Rufetto e Nello sono due rapinatori maldestri che dopo aver scontato quattro anni di carcere per un colpo andato male, vivono in un quartiere della periferia romana. I due non demordono e progettano una rapina che potrebbe dare una svolta alle loro vite mediocre. Riprendere in mano l'attività e soprattutto portarla a buon fine. Però non è per niente facile, si convincono così che il destino non sia dalla loro parte. E il film Il Grande Salto, in programmazione al Cinema del Frontone di Perugia per domenica 28 alle ore 21.30. Stavolta andiamo sul velluto. Stavolta andiamo su lungo. Stavolta andiamoci inищaтрsmannata.